E ciao ragazzi Siamo tornati qui No dopo dopo dipende un altro Siamo tornati qui Con Adi devi prendere più di uno Siamo tornati qui con Loro Dragon Ball Dragon Ball Prenditi No A go Vabbè Ok l'arena Io direi di fare il No Ma l'ho fatto a poco Gohan Ok ragazzi La prima Proviamo la modalità Multigiocatore Con mio cugino Perciò Con due Joystick Peppe non me lo dire E per me è la prima Partita in assoluto Come? La seconda Ma la Prima era solo missione Era La storia Non piace tantissimo Il caricamento A te Non mi piace Perché è troppo lento Un po' macchinoso E non credi Ci sarà Prima Cosa Dovevi premere Premere tu Ma perché Prendi e fanno fare Tutte cose a te Non lo capisco Bah Su se sono Il giocatore uno E fanno fare Agli altri Bah Va bene Ok ragazzi Ma non lo so Così non di cosa Che è muro Bellissimo Io non li ho più Ci sto giocando Però di grafica Ehi tu Adesso c'è Black Goku Ma non è Goku Ah È Goku Quattivo Tu sei Goku Quattivo Non so come D'è il personaggio Più Mamma mia Vincita Mamma mia E forchi Guarda Guarda Mamma mia Ancora mi Devo abituare Con le abilità speciali Io non capisco Perché Goku Fa l'onde Vincita Per adesso Siamo con Lungon Allora Tambieno in Ghiopetto Vai Sai cosa A me piace Che praticamente Non è il classico Giovo Che tu fai Pugno E via Pugno E via Se tu ci fai Ti devi sapere andare Ma Bellissimo Ragazzi Bellissimo Non è il classico Dragon Ball Del pugno Di premere sempre X Però qua Di quanto Sempre quadrato E vincente Perché qua Praticamente Con Ti devi aiutare Con le abilità speciali Con i pugni speciali Devi prendere Rambo E tutto Tutto molto Diverso Molto Molto Diverso Bellissimo Ma la grafica Peppa Parliamo Peppa all'inizio Ci sembrava Bruttissimo Come Mamma mia Poi è difficile Nel Mi ha fregato Alla fine Peppa E' sbagliato No no Rivincita L'ultima L'ultima Dai Dura pochissimo Dai Dai Forza Rivincita Ormai Me la devi dare No Me la devi dare Ok ragazzi Fottuna I principianti Come Peppa Comunque Si è bello Però Devi Devi trovare Il Il giusto Equilibrio Con i tasti Comunque Non è tanto Semplice Né difficile Non è il classico Dragon Ball Del pugno E via E questo Sono molto contento Ok ragazzi Noi ci vediamo qui Al prossimo video Ciao Bella ragazzi Noi ci vediamo qui